Un modo giusto, pur con tutte le incognite che le primarie hanno, ma un modo giusto per dare una parità nella partenza di ciascuno, visto che Zoccarà, che pur ha governato bene la città, all'ultimo momento si è chiamato fuori e allora non era pronta una sostituzione, allora proviamo a usare il nostro metodo delle primarie. Ma ci saranno primarie anche a Ventimiglia perché c'è un duello in palestra di Stolfe, due di centrodestra del PDL. E fossero solo due, ma sono di più. Sono tanti.